No, ho paura a saltare con quella sedia a rotelle I'm Shiko! Shiko ragazzi, sapete come cosa? Come il codice creatore Shiko che potete inserire nello shop di Fortnite Ragazzi, è il codice migliore in assoluto in questo momento E tra l'altro, se inserite quel codice e mi taggate su Instagram Su il canale profilo di Shikoku Jin Io riposterò tutte le vostre storie E sbloccherò i direct Così potremo parlare insieme Comunque ragazzi, oggi faremo una challenge Io e Mango E sarà una challenge super fighissima Anzi, in realtà non è una challenge Praticamente, semplicemente faremo una reaction A tutte le clip super arrabbiate di Fortnite Vediamo se sono abbastanza arrabbiate Mi raccomando ragazzi, dobbiamo assolutamente riuscire ad arrivare a 4.000 mi piace sotto questo video Quindi mi raccomando, facciamo diventare tutti quanti i blu i pollicioni qua sotto E niente ragazzi, sto sudando già adesso e siamo solo alla intro È il sesto video che sto registrando E quindi siamo super pronti Detto ciò, buona visione Uh, iniziamo ragazzi con Team The Tatman Cattivissimi eh Giocano come gioco io Questo qui sono io quando sono 1v1 contro Shane Io sempre faccio così Urca Che calcione che ha tirato Ragazzi se vedete Mango la gara è colpa sua Questo è Ciao È ninja Diventa Super Saiyan Blu Cos'è? Sembra il vito della capa Raga non mi ricordo il nome suo Come si chiama? Eeeh Boh Io non lo conosco Come cavolo si chiama? Però Questo ha spacca tutto C'è l'ambro di Natale Ma lo spacca guarda È un dinosauro Mamma mia Oh c'è Team che è sempre incazzato Ah l2 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 perché se spammi l2 sulla play hai tipo la mira migliorata Ah dall'alto Lui è basito È proprio arrabbiatissimo Guarda come hai preso per i cili Sono così Uh lui ha smesso di giocare a fortuna Quindi è un po' vecchia questa clip Ah no è nuova Ha ripreso a giocare lui Non è così Raga sto qui l'ho spaccato a stiere Chi se lo ricorda? Ah sto qui si incazza come Ecco appunto Ma questa spacca tutta è pazzo La camera spacca proprio Lui è Symfony Tremò tutto Mamma mia Running in the 90's Che sta succedendo? Uh ninja È sempre ninja Ninja ha smesso di essere family friendly eh la sera Basta basta Sta staccando la stream Basta Ciao Basta Staccato Adio Sto qui è bravissimo Sei per PK raga Non è quello di prima No 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 è diverso Lui non è arrabbi... Lui è triste Cioè si 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 È rassegnato Esatto È rassegnato Tifu F***** 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 Nuovo modo di arrabbiarsi Mettiamo i piedi sul tavolo Che muster Mi arrabbio come un matto No raga mi... Aia Uh lui è FaZe qualcosina Non mi ricordo il nome È R.D.T sembra Lui è R.D.M.E.T Lui è R.D.M.E.T Raga il commento ignorante è Puzza di piedi Puzza di piedi Puzza di peli Guarda com'è arrabbiato Se lo mangia il microfono Ma c***o che lui è disperato Mamma mia È disperato pure lui Eccolo Questo è lo sporcato a schiere Di nuovo No no Ma di chi è Di marmo quel tavolo Ma che Fermi un attimo Porca vacca Uh una chita Che figa Ma chi è che si arrabbia Non è lei È l'amica sua nel party Scusate eravamo un attimo In stand by Ok ninja Vediamo ninja Come si arrabbe Guardalo lì Che c***o è successo Ah gli è sparato con la flintlock Verso l'alto E' lì E' lì Mu' c'è i capelli azzurri Ogni volta cambia i capelli ninja Eccolo viola È fortissimo symphony Edita come un matto Ah non è ninja Ma come fa a sembrare un ninja E' un'altra E' un'altra c***o E' un'altra c***o Vedo i capelli viola Sembra lui Teamer sempre arrabbiato Raga è già la settima volta che compare in questa compilation Eccolo Eccolo No 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 Il king dell'arrabbiatura Raga è lui Eccolo Tu sei stralagosissimo Però lui è stralagosissimo Sei diventato un robot Ragazzi guardate che bella La faccia di manga È bellissimo Eccolo Mongral Mongral raga È diventato un X-Man per un attimo Mongral Ragazzi mango è bellissimo Aspettate un attimo È tornato mango raga C'è tifio Eccomi Guarda come mangia la c***o arrabbiato Un rapper Non ho mai visto questa persona in vita mia ragazzi Non odiatemi Chi è? Ma tu ti sei bloccato Ma sembri un Raga guardate Sembri un rapper No adesso rimani così per tutto Guardate Sembri un mostro Comunque Un mostro o robot raga Comunque c'è symphony Super C'è tipo 8 nemici in to Ok credevo che tirasse un pugno a qualcosa Pochi main raga Dobbiamo mettere like solo per pochi main Sì lei non può arrabbiarsi Quando lei si arrabbia fa tipo E basta È finito Guarda che tenera Mango ti si sente tipo robo Comunque lei è troppo tenera quando si arrabbia Uh se ogni volta che si arrabbia si alza così Speriamo si arrabbi spesso Ok ninja sta dando dei consigli a fear itself tv È quello che l'ha ucciso Ah no è un nido suo Ah ma si sta divertendo qui non è arrabbiato Un po' arrabbiatino lo era Ce l'ha con Justin Eccolo cypher pk Lui non sa arrabbia nemmeno lui Lui è tutto tranquillo Lui guarda ha tipo gli occhi che vanno verso il basso un pochino e basta Fa tipo Ok è brutto Eccola Questa si arrabbia Ha urlato un botto ma tipo C'è un bel caratterino Questa Non È tipo bassissimo comunque il volume È tipo come si faccia Oddio sei marina l'herson dell'amo È panca panca Guarda come è impegnato Eeeeeee Oh ninja è migliorato un botto nell'editare raga Guarda hai i capelli stranissimi So bad man Vai 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 spara Ce la fa? Cypher pk Dai che ce la fai Dai che ce la fai Come on bro Fatti va a destra e a sinistra con il mouse Come on Ma una voce famigliarissima È vero è vero Ah courage JD raga Scommetto che sono il giocatore di controller più forte del mondo Ah ecco appunto È nato da lui il trend Oh Gli viene un infarto raga Muore Hai chiamato l'ambulanza È questo mio padre? È questo mio padre? Non so Scissors Non ci credo Un altro streamer l'ho ucciso Ok c'è Symfony Che si sta per arrabbiare parecchio Cavoli se avesse avuto le trappole avrebbe già vinto Oh mamma mia Ma perché Lui si arrabbia e esce da forte Si arrabbia e esce Ti sta caduto Che è la pubblicità? Proprio nel momento clue è arrivata la pubblicità Si è spaventato Ma quel mouse lì è di ferro Ma che cazzo Ah non è la tastiera È il controller Eh nel video scorso era la tastiera Eh no Eh no È ancora la tastiera È ancora la tastiera Dai ma povera tastiera Guarda Come puoi fare questo E niente ragazzi Dobbiamo assolutamente vedere un po' di clip in sottofondo Mentre io e Mango vi salutiamo Ma prima c'è Mango Uh che bella che è Valkyrie E prima c'è Mango Che vi fa Il verso più stupido Che riesce a fare fra 3 2 1 Vai E niente ragazzi Vi aiutiamo qui Io vi ringrazio tantissimo per essere fatto fino a questo momento del video Vi ringrazio anche in tantissimi che state utilizzando il codice Shiko In supporto a un creatore Vi dico sempre che quelli che arrivano fino a fine video Sono quelli che ci supportano di più E quindi li ringrazio tantissimo E vuol dire che ci tenete davvero tanto al canale Vi do un bel bacione E niente ragazzi Seguiteci anche su Instagram Anche Mango su Instagram E anche su Twitch E anche Mango non è su Twitch Però su YouTube Quindi trovate il suo link in descrizione E per ora io e Mango vi salutiamo Perché noi Come al solito Ci becchiamo al prossimo video Mango saluta Bella 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 Ciao